Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi siamo su Fall Guys, come si dice? È la prima volta. Fall Guys. Aspetta un attimo per farlo, non ti ho ancora presentato. Quindi qui con me... Presentami bene, subito. Sì, ecco. Qui con me questa sera, non sono da sola, ma c'è... C'è... Principe Re Ispiro di... No, no, magari questo non lo dico, vero? No, questo evitalo, per favore. Ok, vabbè, lo bippo, dai. E poi c'è anche il... Oddio, ma che cos'è? Assassin Creed! Vabbè, e allora il signor Ezio di... Ezio Mamba. Ezio Mamba, sì, giusto. Allora, sentirete solamente Rey nel microfono e... No, Black Mamba. Comunque, veramente bella, ma come fai ad avere questa skin? Allora, come si fa? Io non so giocare. Non ho mai giocato, questa è la prima volta. Come tutte le altre. Sì, io non so giocare a niente. Allora, cosa facciamo? Eccomi. Intanto devi mettere pronto per giocare. E dove? Facilissimo. Dove metto pronto? Però, X. X, io sto giocando con la tastiera. Ci sarà qualcosa che riguarda il... Ma lei, ho detto... Eccomi, avevo detto ecco. Oddio, ma ci lanciamo con me Fortnite? No. Ma scusami, ma voglio cambiare la skin. No, io non ho altre skin. Ma lui ce la... No, ne abbiamo. Dobbiamo andare avanti con i livelli. Questa è più bella della mia, però. Ok, perché io sono un semi-scarso. Tu sei scarso. Comunque, non ho detto che sono al buio. Perché così, stasera siamo al buio. Dai, tu o meglio, così non ti vediamo. La smetti di ripetere sempre le stesse cose in ogni video? Sì, perché questo è il secondo video che sto facendo stasera. Ma boh, vabbè. Sta cominciando. Sì, sì, me ne sono accorta. Sfortellata. Quella che hai preso tu in faccia. Sfortellata? Ma che nome è? Allora, mamma mia. Oddio, ma io non vi riconosco. Che carino un dinosauro. Dove sono, andiamo? Andiamo di là, andiamo di là. No, no, sì. Sì, 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 ma io non ve lo vuoi. Non vi vedo. Sì. Adesso si chiama sfortellata. Non ho capito. No, no, vai. No, maledetto. No, 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 no. Sì. Ma io sono l'ultimo. No. No. Che confusione. Ma sapete che ne vedo solo uno? Perché ne vedo solo uno? Sì, ce l'ho fatta. No, 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 no. Quantise ne è? Sì, sì. 10. Sì, 12. Sì, sono arrivato a 12. Sì, sono arrivato a 30. E dai, Black Mamba, no, Black Mamba, dai. Dai, Black. Ma che carino il pappagallo. Vai, devi saltare, devi saltare. Vai, dai, dai. Salta ora. Vai, vai, vai. Sì. Ce l'abbiamo fatta tutte e tre. Ma perché questo qua va così piano, cigiottino, carino. Può essere eliminato. Oh, mamma, cos'è? Non mi direi che è qualcosa con i laser. È quello dei, sì, tipo laser. Ma veramente, no. Io faccio schifo a questo, ve lo sto dicendo. Perdo sempre. No, perché in quello di prima, veramente. Eh, me l'ho superato comunque. Ma io. Aiuto. No. Non l'ho capito nemmeno io. Qua mi picchiano e basta. Dobbiamo stare al centro. Dobbiamo fare eliminazioni. Devi evitare queste cose. Io non parto, però non parto. Non parto, non parto, non parto. Ho capito. Ah, io no! Sono fuori. No, veramente? Sì, mi ha colpito alla grande. Io comunque non so come sto facendo, ma... No, non parlo, non parlo, perché per la dicuna cosa cosa succede, capito? Black Mamba è sui cadaveri delle persone. Non capito. Ma io lo vedo. Sì, abbiamo fatto, sì! E ora vorrei capire come funziona. Perché? Ah, ok. Pensavo di... No, io sono stato eliminato. Vincete in onore mio. Sì, certo. Ma scusate, secondo me non c'entrano le squadre, comunque. Secondo me stiamo giocando tutti contro tutti. E che dobbiamo fare? Oddio, è tipo... Cosa? Cadono le tessere. Ho capito, tipo... Sto guardando te! Chi me? Sani assisto guardando te. Ma io faccio andare gli altri. Nell'altro gioco... Come? Manda gli altri, manda gli altri. No, allora spingo il cadavere di... Ok, ok. Ma perché sono caduta? Ma perché ti sei suicidata? Perché? Non sono stata io. No, sei stata tu. Ti giuro. Ma perché ti giuro? Se ne va, se ne va da solo. Non lo so perché fa così. Sì, questa è la scusa di chi non sa giocare. Veramente. Ma chi ci crede? Stiamo andando al cadaverino qua. Ma stai giocando, sì. Sì. Ma che vuoi fare? Vuoi aspettare gli altri? Sì. Destra, destra. Ditto, dritto. La, la, dritto, dritto, sì. Vai ancora dritto. Ma io vedo un Ezio. Di qua. No, no, secondo me è dritto. Sì. Vai, allora, verso... Ecco, quello, quello. Sì, vai. Dritto. Sì? Vai, 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 forza! Ah, sì! Ce lo faccio. Sì. Ma non è giusto, poverino. Black Mamba è stato... Cioè, è uscito. Come mai? Come è uscito? In che senso? La linea, penso, che l'abbia buttato fuori. Io lo vedevo. Ma no, secondo me era qualcun altro. Con la stessa skin. Vediamo. Sì, vedi che c'era un altro. Niente, io non ci voglio più giocare a Fortnite, comunque. Voglio giocare a questo. Ma che dici? E a Fortnite muoio sempre. Anzi, se non avete visto il video di Fortnite, ve lo lascio qui. E questo è quello che devo fare. Round finale. Ok. Rotola giù. Siete pronti? Non bisogna cadere. Siete pronti a morire? Cioè, io. Siete pronti a vedermi morire? In realtà, ecco. Immaginavo. Che dobbiamo fare? Non cadere, Sonia. Non cadere. Piano, piano, piano. No, indietro. No, non avevo capito. È andata via. Facciamo una cosa, scusate. Questo Assassin's Creed che c'è qua, questo Ezio, facciamo finta che è Black Mamba. Ma perché è finito lui? Vabbè, va. Ma non hai capito. No, mi hai detto che era un altro. Ha vinto lui. Ho in posto di produzione e qua metterò Black Mamba. Ehm, guarda che animazione figa. Pinko Panko si chiama questa. È Panko Panko. Oh no, ragazzi, ho troppo sonno. Ma puoi essere giovane intanto? Ragazzi, ma è l'una. Ma va, ma svegliati. È l'una e io sono svegliata, non me lo ricordo. Sì, dalle 10 di sera. Forza! Mamma mia, ho capito come è questo. No, 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 no Aiuto Ma Ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce lo sto facendo Se lo sto fondo No 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 mamma mia Ma mamma mia o mamma mia Mamma mia Dai 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 Comunque ragazzi io non ve lo vorrei dire ma ma ho vinto E sono stato vinto Quindi per me No 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 Sto vedendo intanto tutte e due Sono sulla visuale di Black Mamba Ma c'è davanti anche Ray Allora Volevo ringraziare tutti Per avermi sostenuto In questo percorso Ma chi ti ha sostenuto ma chi Dai dai ragazzi Vai a destra Black Mamba Tieni da schista Vai a destra vai a destra Sì vai 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 chi siamo i primi tre Terzo Sì 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 L'abbiamo fatta ragazzi Ok finalmente è finita questa partita e siamo tutti e tre Ua che carina la gallina Dobbiamo cambiare queste skin Sì Voglio la gallina Cocodè Cocodè Per chi non avesse capito che il mio nome Cocodè è il verso della gallina Ok ragazzi Che cosa dobbiamo fare qui? Club del salto Oh mamma mia dove c'è da saltare Boh No beh in realtà dove c'è tutto Ma che cosa dobbiamo fare? Ma che dobbiamo fare? Ops C'è gente che spinge E a me la maleducazione non piace Ah spingere Ah come si fa a spingere? Ma come fanno le persone ad essere eliminate? Ah l'ho capito Perché poi iniziano ad andare più piscine Ma più veloce Ah qualcuno è eliminato Cììì Devo dire che mi sono impegnata tanto In questo gioco E si è visto e ne è falsa la pene La pene La pene Basta non aggiungiamo altro Andiamo avanti ragazzi ce l'abbiamo fatta Ma tu che ce l'hai fatta E ora c'è Quello finale Oh no C'è entrato in pieno Questo non lo so Come gli altri non so Ma è come quello di prima vedi Ah sì sì giusto Dobbiamo capire dove sparano Allora Da questo lato Sparano A primo colpo A primo colpo Ma perché a primo colpo No E mi sa che è rimasto Solamente black mamma Sì no Ce l'ha fatta black mamma Bravo Sì siamo black mamma Sei tutti noi Questa volta c'è quello originale In finale comunque Non c'è quello fasullo Come prima Io sono morto subitissimo Questo è figo Che bellino questo Allora in realtà All'inizio non mi piaceva tanto Sull'altro Come si chiama Quello strambol guys Strumbole No per me ormai è strambol Strambol guys E carino comunque Mi sta iniziando a piacere Peccato lo volevo fare Dai Black mamma Non ti emozionare perché Sappi che la La visuale è subito Ma guarda questa coccinella No 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 Black Black Laterale Buttati in laterale Ok Gira giro tron indietro No lascialo fare Sì ma dovrà tornare indietro Prima o poi Ecco Ok Oh Quattro Tre ne mancano Resisti Ne mancano tre Guarda Ne mancano ancora tre No No Attento 8 Ne mancano due Resisti No 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 Vai a dentro No Ti prego no Cos'hai fatto Perché No beh Dai Ti prego Resisti Uno Uno ne manca No No Non saltare Ne manca uno Ne manca uno Ne manca uno Resisti È sempre quello No 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 Chi ha vinto No L'altro No Per 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 Non Niente Per Non hai vinto Per tutti noi Per pochissimi Va bene Niente ragazzi Intanto vediamo Un attimo Se abbiamo vinto qualche Cosa abbiamo vinto No Non siamo saliti Di livello Io ancora Aspetto Niente Non abbiamo vinto Proprio niente Va bene No Neanche io Direi che possiamo salutare Per questo video È tutto Se vi è piaciuto Ricordate di Mettere un mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Perché se no Se non vi iscrivete Perderete un sacco di video Con Black Mamba E con Ray E non potete perdere E condividete Condividete No questo condividete Non si condivide più Parlate Parlatene con i vostri amici Aspetta perché ho scudato Mentre parlavo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao E vi saluto anche Black Mamba Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao